L'HIV continua a essere un importante problema di salute pubblica. Nel 2014 si sono contati circa 37 milioni di persone positive al virus e 2 milioni di nuove infezioni. Sono 1,2 milioni le morti correlate al virus. L'Africa subsahariana è la zona più colpita dall'infezione, con circa 26 milioni di persone sieropositive. Le nuove infezioni qui rappresentano il 70% del totale. Al momento non esiste ancora una cura per l'HIV, ma esiste una terapia, la terapia antiretrovirale, che rallenta la progressione del virus e rende l'infezione compatibile con la vita. Il 40% delle persone con HIV, cioè circa 15 milioni, ha ricevuto la terapia antiretrovirale. Di questi, 13,5 milioni vivono nei paesi in via di sviluppo. Il test diagnostico è rapido e rivela la presenza di anticorpi nel sangue. Si stima però che solo il 51% delle persone infette sia a conoscenza del proprio stato. Nel 2014, nei paesi in via di sviluppo, 150 milioni di persone hanno potuto accedere ai test diagnostici. Grazie. 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 Grazie.